Non possiamo andare a Dio soltanto quando abbiamo i nostri bisogni, ma bisogna avere una relazione con Dio, rispettarlo, il nostro creatore e tutto e lo dobbiamo onorare con tutto il cuore. Quindi si legge la sua parola, si cerca ogni giorno, si benedice Dio, si adora il Dio, tutti i giorni. Sentiamo anche Giuditta. Buonasera a tutti, a me mi hanno presentato un Dio vivente e io ho creduto con tutto il mio cuore e l'ho cercato ed è entrata la sua meravigliosa presenza nella mia vita, nel mio cuore. Ha tolto tutto il vuoto che c'era dentro, la tristezza, l'angoscia, la morte, ha messo la vita, mi ha messo la sua meravigliosa luce e grazie a Dio ha spezzato le catene. E posso dire grazie a Dio che io adesso servo Dio, onoro Dio e glorifico Dio e io vi invito a invitarvi nella vostra vita a cercare la sua meravigliosa presenza perché Lui vi può cambiare, trasformare e liberare e può mettere il suo amore e può risolvere ogni problema. Dio vi benedica. Amen.